Poracci, bentornati o benvenuti sul Porocast, l'unico podcast di internet.poro dove si parla di videogiochi. Questa è una puntata improvvisatissima perché non era prevista per questa domenica, giorno di riposo, un nuovo episodio del podcast, però trattandosi del Mario Day, Nintendo ha deciso di pubblicare un mini Nintendo Direct dove sono state in realtà comunicate delle informazioni abbastanza importanti e quindi ho pensato, va bene dai, sfruttiamo questa occasione per fare un grande ritorno in grande stile del podcast dove commentare appunto il Direct del Mario Day e aggiungere anche delle cosine che ci tenevo a dirvi ma non ho avuto tempo di parlarvene nei video nelle scorse settimane. Detto questo, vi invito a supportarmi, anzi vi ringrazio per il supporto che mi state dando in questi giorni e niente, purtroppo la sigla questa volta l'ho persa per davvero, quindi vi beccate la sigla classica. Definirlo Direct è un po' un'esagerazione perché il filmato pubblicato per il Mario Day dura circa 2 minuti e 50, meno di 3 minuti, quindi è praticamente uno spot pubblicitario senza alcun tipo di fronzolo e in realtà io l'ho trovata una presentazione abbastanza strana perché il focus principale è stato quello di annunciare ufficialmente il film di Super Mario, ovvero il secondo film dedicato a Super Mario Bros che arriverà ad aprile 2026, quindi probabilmente è appena iniziata la produzione e siamo ancora lontanissimi anche dal vedere solo il primo trailer. Ovviamente come mossa ha senso annunciare una cosa del genere perché comunque il film lo scorso anno ha avuto una risonanza mediatica impressionante e ci sta insomma iniziare a creare una sorta di hype già a partire da adesso, però concretamente non abbiamo nulla tra le mani se non la promessa di Miyamoto che si tratterà insomma di un qualcosa che espanderà ancora di più il concept dell'universo filmico di Mario e quindi staremo a vedere. Mi sarei aspettato nel mezzo magari uno spin-off relativo a qualche personaggio secondario, se era vociferato probabilmente un film con protagonista Donkey Kong o magari uno spin-off incentrato su Luigi, però a quanto pare andranno direttamente con Super Mario Bros 2 che come prospettiva interessante io ripensando al film oggi mi è venuto in mente che sì comunque mi è piaciuto però non mi ha lasciato dentro niente, quindi come prima prova ci può stare ma da questo seguito magari mi aspetto qualcosa di un po' più audace, di insomma un po' più Nintendo, così come i giochi Nintendo lasciano il segno nella loro semplicità, così mi aspetto anche da un film, dal seguito che arriverà insomma fra due anni. Però staremo a vedere, non sappiamo ancora nulla quindi è proprio difficile esprimersi al riguardo e per me questa qua è stata anche la notizia meno interessante di tutto quanto. Innanzitutto c'è stato un vero e proprio scandalo perché l'apertura è stata affidata alla nuova voce di Super Mario che insomma ho visto ha creato un bel po' di turbulenze tra l'utenza perché insomma si sente tantissimo la mancanza di Charles Martinet e si sente forse soprattutto in questa frasetta che dice in apertura tentativo di scimmiottare Martinet piuttosto che quello di creare una nuova versione di Super Mario. Non lo so c'è qualcosa che non mi convince, anzi fatemi sapere poi voi che cosa ne pensate di questa nuova voce che comunque in Wonder non mi aveva dato minimamente fastidio, anzi neanche mi ero reso conto che era un qualcosa di diverso da Martinet almeno all'inizio, mentre qui non lo so c'è già qualcosa di strano. Ma comunque a parte questo ci sono stato, c'è stato spazio anche per degli annunci perché sono state finalmente confermate le date di uscita di Paper Mario Remake, il remake del portale millenario che arriverà a fine maggio, precisamente mi sono segnato la data, arriverà il 23 maggio quindi in chiusura del mese, mentre il 27 giugno sarà il turno di Luigi's Mansion 2 HD e sorpresa delle sorprese non prevista neanche da Pioro, almeno non so se negli ultimi giorni il leaker si era espresso a riguardo, la prossima settimana, ovvero martedì, giorno un po' insolito, ci sarà un aggiornamento dell'NSO per la versione base dove verranno aggiunti tre titoli per Game Boy e Game Boy Color che sono Dottor Mario, Mario Golf e Mario Tennis sorpresa gradita, però sì, non è che siano poi dei titoli così tanto rivoluzionari, anche se Mario Tennis secondo me è da riscoprire assolutamente. E queste tre date in realtà ci danno anche insomma due prospettive molto interessanti, la prima è che vabbè ormai Pioro lo sappiamo è il leaker più affidabile in circolazione e anche questa volta aveva spoilerato, non dico completamente, ma insomma i due annunci più importanti li aveva presi in pieno e li aveva comunicati con i suoi soliti indovinelli. Io mi sarei aspettato in realtà una presentazione non proprio coincidente con il Mario Day perché queste cose di domenica sono un po' strane, però alla fine così è andata, Nintendo ha deciso di fare un annuncio del genere di domenica con buona pace di tutti gli uffici stampa e dei siti di notizie che sono stati costretti ad aprire anche di domenica mi dispiace per loro, ma in fondo anche io sono qui adesso a fare questo podcast, quindi insomma siamo tutti sulla stessa barca e quindi insomma a livello di leak Pioro un profeta, un oracolo. Però invece la cosa diciamo meno entusiasmante è che ora abbiamo una scaletta abbastanza definita di quello che sarà la prima metà del 2024 di Nintendo e a parte un buco ad aprile, cioè sostanzialmente aprile non esce nulla, abbiamo dei mesi non proprio entusiasmanti se vogliamo dire così perché marzo sarà rappresentato dall'uscita di Princess Peach, gioco che mi dispiace ma mi interessa veramente poco, lo proverò, lo giocherò per carità, anche perché è fatto da Good Feel quindi diciamo c'è un certo pedigree dietro, però insomma non è proprio un'uscita per cui mi strappo i capelli e aprile non si sa bene cosa verrà pubblicato di titoli first party, mentre a maggio abbiamo in realtà due uscite perché in apertura ci sarà Endless Ocean, altro titolo che devo ancora capire bene se mi interessa o meno ma propenderei più verso il non mi interessa e poi a fine maggio abbiamo il remake di Paper Mario a giugno abbiamo Luigi's Mansion 2 che insomma è una riproposizione in HD che non sappiamo ancora quante novità porterà al gioco base ma almeno graficamente non sembra sia stato fatto chissà quale lavoro di riscrittura come magari era accaduto per la Metroid Prime HD Remaster e niente, questo per ora è il 2024 di Nintendo e mi lascia un po', non lo so, un po' così, un po' di stucco e effettivamente questo buco tra marzo e aprile potrebbe confermare l'ipotesi iniziale che Nintendo aveva intenzione di presentare una nuova console e quindi di lasciarsi anche uno spazio libero avendo soltanto poi l'appuntamento di febbraio del Direct vero e proprio visto che abbiamo avuto soltanto un partner showcase quindi magari questo spazio era stato creato per dare attenzione alla console che però, sempre secondo i rumor, a quanto pare sarebbe stata rimandata internamente al 2025 quindi forse anche la sua presentazione non avverrà nella prima metà dell'anno corrente e quindi boh, sarà stata rimandata anche questa però, console o non console, questo 2024 di Switch fatica un po' ad ingranare e non lo so, mi manca un po' la visione di insieme o meglio, quello che vedo non è che mi entusiasma più di tanto siamo chiaramente di fronte a una console che è arrivata al capolinea ma è anche giusto così, è normale però insomma mi aspetterei un po' più di prontezza da parte di Nintendo nel gestire al meglio questo momento di transizione che è delicatissimo ci sono comunque i titoloni che potrebbe tirar fuori titoloni che non sono per forza un Mario in 3D, una Zelda, un nuovo Zelda eccetera eccetera anche perché quello chissà quando arriverà ma più che altro ci sono quegli stoppini, come si dice in gergo, che potrebbero andare benissimo non lo so, la prima cosa che mi viene in mente le remaster o remake degli Zelda in 3D i due che mancano all'appello, ovvero Wind Waker e Twilight Princess a sto punto potrebbero farli uscire adesso per far passare il tempo insomma però vediamo, vediamo per ora tanti buchi e dove non ci sono buchi ci stanno dei titoli che almeno personalmente non è che mi attirano più di tanto e speriamo che la situazione cambia un po' però fatemi sapere voi soprattutto che ne pensate di questo 2024 di Nintendo e visto che ci sono, così finalmente lo dico negli ultimi mesi sto giocando parecchio sono tornato a giocare parecchio alla PlayStation 5 grazie soprattutto all'acquisto della PlayStation Portal che sono riuscito a trovare a prezzo di listino tramite il PlayStation Direct che è il, sarebbe l'equivalente del My Nintendo Store però di Sony tra l'altro se siete interessati alla Portal molto spesso l'è disponibile io vi consiglio di prenderla là e non dai bagarini su ebay o da rivenditori esterni e niente, in questi giorni ho pensato effettivamente è diventata un po' la mia alternativa Switch perché comunque la cosa che mi interessa più di tutto è la possibilità di giocare in portabilità e in un modo molto rocambolesco Portal ti consente di fare una cosa del genere però, però ci sono 10.000 però ed è, penso sia uno dei progetti peggio usciti negli ultimi 15 anni proprio concepiti in modo sbagliato PlayStation Portal è un device che mentre lo utilizzi ti fa provare un grandissimo rimpianto di quello che sarebbe potuta essere una nuova PSP speriamo infatti che o una PlayStation Vita speriamo infatti che che i rumor siano effettivamente veri e che per la prossima generazione di console Sony stia effettivamente valutando il ritorno anche nel mercato delle portatili o addirittura, perché no colpo di scena nel mondo delle console ibride perché di un device del genere ce n'è assolutamente bisogno io fortunatamente utilizzo in portabilità dentro casa anche Switch raramente la porto fuori quindi per me il fatto che sia un device in streaming è sì una limitazione però è una cosa con cui riesco a scendere a patti anche perché dopo svariati test ho la sicurezza che funziona sia in bagno che a letto quindi sono più o meno e anche sul divano quindi questi sono i luoghi dove mi serve poter giocare alla PlayStation Pro lontano dalla postazione di lavoro lontano dagli schermi dove sto davanti per 300 ore al giorno lavorando sia per i vari lavori che faccio che per YouTube quindi insomma avevo bisogno di staccarmi e soprattutto avevo bisogno di un qualcosa che mi permettesse di ottimizzare i tempi per giocare a Final Fantasy VII Rebirth quindi sostanzialmente la portal l'ho presa per quello e effettivamente sto riuscendo a giocare a un RPG che è mastodontico gigantesco tra l'altro capolavoro bellissimo ma questo è un discorso per un altro video anzi per un altro podcast è lo strumento di cui avevo bisogno è lo strumento sbagliato nel momento giusto però lo utilizzo e tutto sommato riesce a funzionare scandalosa la cosa che non si possano associare due cuffie Bluetooth ma non so come mi sia venuto in mente poi se posso anche la gestione degli altoparlanti è abbastanza triviale visto che il livello minimo comunque è un volume che è a stecca e quindi se accanto c'è qualcuno che dorme magari mentre si gioca a letto è praticamente impossibile così come anche la gestione della luminosità boh mi lascia un po' perplesso ma sostanzialmente più ci gioco e più penso io voglio una PSP io voglio un device che mi permetta di portare il mio profilo il mio account PlayStation verso cui nutro anche un certo legame anche un certo orgoglio perché ho sopra 20 anni di trofei praticamente e importabilità non chiedo altro chiedo una console che mi permetta di sfruttare al meglio l'ecosistema Sony e non un device di riproduzione remota ecco è qualcosa di veramente insensato però questo è quello che passa il convento e in un momento dove Switch mi dà pochissimi stimoli una volta finito Mario vs Donkey Kong al momento non ho qualche titolo che mi attira più di tanto la portal si è inserita di soppiatto ed effettivamente mi torna molto utile assurdo pure che non si possono ma come che è venuto in mente non si possono utilizzare i titoli in streaming dal PlayStation Plus quindi sostanzialmente tutta la libreria PlayStation 3 non si può avviare da portal vabbè è veramente senza senso e mi dispiace tantissimo un peccato perché poi tra l'altro se devo dirla tutta cioè il device è comodo lo schermo è bello oddio gli analogici posizionati in quel modo sono un po' strani devo dire che entrano dentro lo schermo quello mi fa molto strano però in realtà l'apparecchio è bruttissimo da vedere però è comodo è vero se è solo uno schermo non c'è praticamente niente dentro visto che è una sorta di device mirror quindi non è che hanno dovuto inventarsi chissà che a livello di proprio product design per metterci dentro che ne so il processore ultra potente la scheda grafica eccetera eccetera il sistema on chip ottimizzato al meglio ne hanno problemi di surriscaldamento quindi è ovvio che il device lo hanno potuto fare il più comodo possibile se può vedere perché è orrendo però insomma in quello non mi sento di bocciarlo però Sony ti prego so che state ascoltando questo podcast dai su fate una PSP e la comprano tutti tutti la prendo pure io poi magari ci mettete le memory card sbagliate poi ci fate qualche minchiata sopra ma state sicuri che la vendete quindi dai su fatelo e per chiudere vi volevo parlare un po' dei progetti futuri in particolare dei video che avrei intenzione di fare nelle prossime settimane ci sarà innanzitutto un progetto di restauro di una console d'epoca vediamo che ne esce fuori e poi vorrei però devo azzeccare bene il timing vorrei fare un video dedicato ai videogiochi su Dragon Ball questo perché insomma la scomparsa di Akira Toriyama ha lasciato un vuoto incolmabile ed è una notizia veramente che ha stravolto tutti quanti ha proprio spaccato in due il cuore di tantissime persone ed è un argomento di cui si può parlare tantissimo l'altro giorno stavo sfogliando l'artbook di Dragon Quest con tutte le illustrazioni di Akira Toriyama ed è una cosa pazzesca cioè si potrebbe studiare per giorni ci si potrebbero fare sopra 10.000 video su quanto sia stato influente l'opera di Toriyama non solo nel mondo degli anime ma anche in quello dei videogiochi ma in generale proprio nello sdoganare la cultura pop giapponese e nel farla diventare qualcosa di assimilata e assimilabile anche dall'occidente Toriyama ha reso familiare un mondo che altrimenti sarebbe stato alieno ed è stato veramente un grande e vorrei fare un video sui videogiochi di Dragon Ball perché in realtà qua si apre un mondo complessissimo fatto da centinaia e centinaia di titoli di cui molti sono delle ciofeche ma altri invece sono proprio delle figate e quindi mi piacerebbe fare una sorta non dico di top ma di retrospettiva su alcuni dei titoli più oscuri che secondo me vale la pena riscoprire e magari anche dei giochi brutti che però tutti quanti in un modo o nell'altro abbiamo provato penso ad Ultimate Battle 22 di cui feci un video in tempi non sospetti penso ormai un 4-5 anni fa o anche Final Bout bruttissimo se ne può parlare tantissimo e c'è tantissimo da fare non vorrei solo sembrare indelicato del tipo sto sfruttando il nome del maestro morto e quindi provo a fare cioè non vorrei che passasse quel messaggio che sto provando a massimizzare le visual quindi magari aspetterò un pochino prima di fare un video del genere perché anche forse nel rispetto generale tra l'altro io vi ringrazio tantissimo per il supporto che mi state dando in un periodo dove comunque il canale YouTube sta scendendo un po' di visualizzazioni ma allo stesso tempo sto anche sperimentando tantissimo con i format e con i video che sto portando e il feedback è sempre ottimo è sempre incredibile e voglio continuare a fare queste cose per esempio un video come la retrospettiva su Toriyama all'interno del mondo dei videogiochi è uno dei video che mi rende più felice in assoluto anche perché sono forse riuscito a bilanciare proprio quell'aspetto che stavamo dicendo prima cioè quello che non è stata semplicemente una cosa del tipo faccio il video dicendo due banalità perché così mi aggancio al al fatto che appunto si deve parlare di Toriyama perché è venuto a mancare e quindi di sicuro saranno video che funzioneranno bene è stato un video strutturato con tanta ricerca dietro fatto però anche molto velocemente ma in cui ho cercato di mantenere la qualità che ci si aspetta da questo canale qualità tecnica poraccia però insomma a livello di scrittura e di informazioni secondo me c'è tanta carne al fuoco in quel video di cui sono felicissimo un'altra cosa che non capisco proprio come funziona il mondo ed è questa l'ultima cosa che vi racconto prima di lasciarvi assurdo come sapete io pubblico non tutti i giorni ma molto spesso degli shorts qua su youtube ma poi anche su instagram e li pubblico sempre in contemporanea con gli stessi titoli le stesse indicizzazioni gli stessi file ma anche allo stesso orario e solitamente se su youtube ho più di 40.000 iscritti e su instagram ho 3500 follower i video vanno gli shorts vanno ovviamente molto meglio su youtube ma proprio per un fattore numerico bene l'ultimo reel che ho fatto sull'influenza di toriyama nel mondo pokemon ma in generale nel mondo dei videogiochi e quindi anche verso the legend of zelda su youtube mi ha fatto meno di 10.000 visualizzazioni circa 7.000 che comunque vanno benissimo su instagram al momento ha superato le 70.000 visualizzazioni e se ci fosse il modo di capire come funzionano i social a questo punto probabilmente avremmo già conquistato internet.poro purtroppo per come stanno le cose bisogna trovare la formula magica e si continua ad andare a poro di cane come si suol dire e niente e in realtà sono ovviamente felice di fare così tante visualizzazioni ma poi me ne frega relativamente più che altro c'è una sorta di frustrazione nel sapere che appunto i video non è tanto il problema se li fai bene o li fai male ma se la piattaforma decide di spingerli o meno quali sono i criteri che permettono una tale apertura il poter raggiungere così tanti account non si sa bisogna sempre affidarsi a diritti sciamanici e sperare che le cose vadano bene però insomma io comunque grazie al vostro supporto soprattutto agli abbonati su youtube che stanno crescendo tantissimo agli abbonati su patreon che sempre granitici mi supportano ogni mese e a tutti quelli che comunque commentano mettono like interagiscono eccetera eccetera siamo qua siamo qua e non non ci arrendiamo e continuiamo ad andare avanti e ancora una volta vi ringrazio tantissimo per il supporto nei confronti dei miei contenuti sgangherati poracce al 100% però fatti fatti al massimo delle mie possibilità che non so non so se è proprio un merito però comunque è quello è l'unico vanto che posso mettere in questi video io vi ringrazio per essere arrivati anche alla fine di questo podcast che ovviamente stavo ricchissimo ormai non c'è neanche più bisogno di dirlo ma continuo a dirlo sempre e comunque e niente noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà o con un nuovo podcast e tra l'altro vabbè non dico niente non dico niente non dico niente voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi riposatevi dormendo domeniche tranquille ma soprattutto nerdate duro io sono il poro poro Michele Cast ciao ehi 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 fermo se questo tipo di video ti piace prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul porion il patreon dei poracci con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto come retroscena anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa a a a b a Grazie a tutti.